Appena cinque giorni fa, interrogazione del 10 giugno 2022 a firma del consigliere Gabriele Di Filippo, deratizzazione strade comunali. Leggo, indirizzata chiaramente al sindaco e all'assessore competente e oltre che al presidente. Il sottoscritto consigliere Gabriele Di Filippo, alla luce delle immagini allegate sopra scattate lungo la via Genaro Maresca e via dei Platani, chiede di conoscere. Si è stata programmata ed eseguita la deratizzazione delle strade comunali sia del centro che della periferia. Se considerate le immagini e le numerose segnalazioni che ho ricevuto agli abitanti delle suddette aree, non sia il caso di procedere ad una deratizzazione straordinaria in quanto i roditori, anche a causa del caldo, sono estremamente assedati ed affamati, tanto da non allontanarsi dai cittadini quando addirittura andare loro incontro. Chiedono tutti di prendere provvedimenti urgenti al fine della tutela della salute pubblica. Gabriele Di Filippo C'è una nota che è arrivata dall'ufficio tecnico a proposito della deratizzazione. In effetti la deratizzazione è a carico della ASL, però noi solitamente quando ci sono periodi come questi integriamo anche con nostre richieste specifiche, con nostri incarichi specifici per andare a rafforzare questo tipo di trattamento. Effettivamente purtroppo è il periodo. In più stiamo per emanare, non so, mi stanno facendo un attimo dall'ufficio tecnico per capire se l'ordinanza si deve rifare o si rifà a quella vecchia, per pubblicare dei manifesti a parte che riguardano l'accensione dei fuochi, ma anche per quanto riguarda la pulizia dei fondi, perché la pulizia dei fondi purtroppo aumenta questo tipo, cioè la mancata pulizia dei fondi aumenta purtroppo questo problema. Per cui oltre a dare maggiore impulso direttamente noi per cercare di andare a integrare quello che già fa l'ASL, stiamo per uscire anche con dei manifesti in cui ricordiamo a chi ha dei fondi incolti di andare a, così come prevede la norma, di andare a ripulirli. Posso intervenire? No, vabbè, il problema è principalmente dovuto al fatto che in alcune aree che comunque sono frequentate da cittadini, cioè sono molto frequentate perché via Gennaro Maresca e via dei Platani sono comunque zone molto frequentate, appunto, cioè questo problema spaventa non tanto le persone ma anche i bambini, quindi semmai, ecco, se si può intervenire con, non so, se si può sollecitare l'ASL, insomma spero che faremo tutto il possibile proprio come amministrazione per dare un, sollecitare l'ASL in questo senso perché altrimenti poi non ha più senso farla a ottobre, cioè o si fa adesso o non si fa. Nel momento in cui ci sono delle esigenze particolari ci attiviamo con l'Ufficio Ambiente e andiamo praticamente ad un'azione mirata sul discorso questo, inoltre c'è anche un prolificare di scarafaggi e anche questo con l'Ufficio Ambiente li siamo attivati, anche perché per quanto riguarda scarafaggi e questo tipo di logia di insetti il problema è cercare di capire un attimino dove sono tane queste cose qua per andare in un discorso sempre ancora più mirato. Piccolo problema anche, il discorso dei topi, è la cadena attimino anche ai cestini della raccolta in mezzo alla strada, ai buttacarte, ai classici cestini che spesso diventano ricettate ovviamente di buste anche di umido abbandonate. Diciamo che facciamo attenzione però questo è veramente il periodo più particolare anche per il discorso legato a siccità, quindi voglia di bere, tutto il resto. Però noi comunque con l'Ufficio Ambiente in questi periodi qua facciamo un'interazione mirata. Un piccolo esempio, Trinità, sono state messe duemila trappole praticamente per topi nel giro di nemmeno una giornata, tutte praticamente, però c'è anche il problema legato a cantinole dove sono depositi di cibo, noi ogni posto facciamo sempre in modo da un attimino dare delle indicazioni per cui anche conservare alcuni alimenti all'interno di queste cantine è meglio evitare. Però, come ho detto, l'Ufficio Ambiente ci attiviamo subito appena c'è questa tipologia di emergenza. Ok, grazie. A te, grazie a te. Bene, passiamo alla seconda interpellanza, in questo caso, o meglio la prima a firma del consigliere Vincenzo Iaccarino, data 9 maggio 2022, oggetto motivazione della designazione del rappresentante comunale insieme al CDA di Penisola Verde. La leggo un attimo. sottoscritto Vincenzo Iaccarino in qualità di capogruppo di Piano nel Cuore e a nome dello stesso, avendo appreso dalla stampa che il Comune di Piani di Sorrento ha designato quale proprio rappresentante in seno al CDA della società Penisola Verde del signor Giuseppe Coppola e che lo stesso ricopre la carica di consigliere comunale a Sant'Agnello. Interpella il sindaco per conoscere quali sono le speciali motivazioni che l'hanno indotta a rinunciare alla designazione di un rappresentante di Piano di Sorrento per ricoprire tali importanti incarico, stante la natura del servizio prestato alla società e la partecipazione alla stessa il Comune di Piano. Inoltre evidenziandosi che l'attività professionale svolta allo stesso coppolo lo pone in una condizione privilegiata nei rapporti che egli già intrattiene con le attività produttive del territorio e quindi anche di Piani di Sorrento, cui ero che i propri servizi di consulenza e assistenza tecnica. Se ne chiede discussione la prossima tunanza del Consiglio Comunale. Ma io sulla prima parte dell'interrogazione effettivamente qualsiasi nomina si fa è perfettibile e addirittura mi è venuto in mente rispetto a questa interpellanza quello che diceva un sindaco ormai che purtroppo non c'è più. Quando si fanno questi tipi di nomine, si nomina una persona nei nomi di uno per scontentarne eventualmente 10, 15, 20. Quindi è più un problema fare queste nomine che altro. Sicuramente a Piano di Sorrento non esisteva una persona, esisteranno centinaia di persone idonee per poter svolgere questo ruolo. Però a volte questi tipi di nomine vengono fatti pure al di là della richiesta che viene fatta nello specifico. Cioè mi viene chiesto ma è possibile avere questo? Viene fatto innanzitutto per la professionalità e su questo abbiamo detto che ce ne potrebbero essere decine e decine o centinaia. Ma pure sul feeling che si crea con la persona che si viene a nominare. Per cui sicuramente è possibile, sicuramente ce ne saranno a piano tantissime, sicuramente quando si fa una nomine perfettibile, però ritengo che comunque l'ho fatta nella convinzione di avere oltre ad avere un professionista avere pure una sorta di feeling con chi ho nominato. Questa è la prima parte. Sulla seconda parte io avrei bisogno, a parte che quando parliamo di che questo professionista ricopre anche la carica di consigliere comunale, l'unica cosa che è sicura è che non sono originale io. Perché ci stavo a Cattrosinico che ha nominato i propri consulenti, consiglieri comunali di altri comuni, anche avendo le professionalità all'interno del proprio comune. Quindi voglio dire, su questo non sono originale. Sulla seconda parte io avrei bisogno di capire meglio, nel senso che a me non è chiara. Quindi sulla seconda parte non è chiara perché voi mi dovreste spiegare quale professionista incaricato da un sindaco o da un'amministrazione a svolgere un determinato incarico non potrebbe potenzialmente utilizzare l'incarico che ha ricevuto per poterne eventualmente fare potenzialmente in maniera astratta, farne un uso distorto. Quindi sulla seconda parte io veramente, ma così come potrebbero fare noi consiglieri comunali, io sindaco, chiunque potrebbe avere atteggiamenti, diciamo, però mi guarderei bene dal, eventualmente non ritengo, ripeto, sulla prima accetto tutte le critiche sulla prima parte dell'interpellante, sulla seconda mi guarderei bene perché voglio dire, si dicono cose insomma poco particolari, sulle quali ritengo di non dover neanche rispondere secondo me. La mia era una sorta di chiarimento di questo senza nessuna polemica, volevo solo capire delle motivazioni che poi ci sono tutte per carità, è legittimo quello che ha fatto il sindaco, che ci mancherebbe, ognuno può scegliere quello che vuole, considerando anche i rapporti stretti che ci sono col professionista. Volevo capire in effetti la scelta, se si riferisce alla mia nomina a Sant'Agnello, io, vabbè, l'ha detto, a me non è una nomina remunerata, a differenza di questa, e nello stesso tempo sono ormai dieci anni che mi occupo di questa situazione, tra l'altro è ancora in vigore una delega di tutti gli altri sindaci che non mi è stata mai tolta, in cui c'è anche il presidente attualmente presente, di avere questa delega a interessarmi di questa cosa. Quindi voglio dire, non accetto, non è che sono andato a pregare io il sindaco di Sant'Agnello su questo. Sono stato onorato, ma non sono nemmeno un suo, diciamo, non ho fatto nessuna campagna elettorale. Allora, questo che invece per l'ultima fase era solamente capire, per carità, sulla professionalità e sul fatto di essere una persona anteggeri, ma del professionista, non ho nessun dubbio. Ma a me era solo capire, perché in alcuni casi, quando facciamo delle nomine, possiamo mettere in difficoltà il professionista. Non era un qualcosa contro il professionista, ma era solo un'osservazione che lei mi esinda come la chiarita, quindi non c'è nessun problema. Passiamo all'ultima interpellanza, firma sempre del consigliere Vincenzi Alcarino, data 11 maggio 2022. Oggetto, motivazioni, mancato finanziamento progetto Scuola Amalfi e intentimento dell'amministrazione in merito. La leggo. Il sottoscritto, Vincenzi Alcarino, in qualità di capogruppo di Piano nel Cuore e anche a nome dei colleghi, avendo appreso alla stampa e successivamente verificato nella gradatoria pubblica del Ministero circa il mancato finanziamento del progetto di ricostruzione della scuola di via Carlo Amalfi in relazione ai fondi PNRR. Interpella la signoria vostra per sapere, alla luce di quanto sopresposto, se a conoscenza le motivazioni per l'avvenuta esclusione e quali iniziative l'amministrazione intende intraprendere per finanziare il progetto di ricostruzione della scuola ex capoluogo. Se ne richiede discussione nel prossimo Consiglio Comunale. Lascio all'assessore ai lavori pubblici, Anna Iaccarino. La parola, prego. Buongiorno. Per prima cosa ci tengo a precisare che aspettavo che arrivasse il momento di discutere questa interrogazione in Consiglio Comunale perché è questa e resta la sede del dibattito politico. Altrimenti non vorrei che si perdesse di vista questo concetto e si pensasse di poter trasferire sui social o magari sui blog o sui giornali di persone più o meno vicine quello che è appunto il dibattito politico. E dico questo proprio perché noi dobbiamo cercare, quelli sicuramente sono elementi importanti, social, giornali, blog, però sono un corollario del nostro ruolo. Guai se si pensasse che appunto si può discutere altrove e non qui un argomento, un'interrogazione, un'interpellanza. Ecco, significherebbe appunto cercare di affossare ancora di più il livello della politica mentre noi dobbiamo cercare di elevarlo il più possibile. Ecco perché ho provato ad evitare di entrare su questo argomento tramite social, altrimenti faremmo la fine di quelle comari che si battibeccano sui social e non sarebbe un bel modo di elevare il livello. Detto questo, per quanto riguarda l'interpellanza in questione ci tengo a fare alcune precisazioni. In primo luogo va chiarito che non si tratta di un'esclusione, visto che la domanda che abbiamo proposto è stata messa ma non finanziata, quindi siamo in graduatoria ma non abbiamo ottenuto la linea di finanziamento. Quindi probabilmente potremmo aspettare o lo scorrimento della graduatoria o l'apertura di un'altra linea di finanziamento. Va poi detto che non si tratta di un progetto, bensì di una domanda di finanziamento. I progetti di realizzazione degli interventi proprio per disposizione del bando vanno realizzati dopo, su impulso del Ministero. Quindi queste erano solo schede progettuali, schede di domanda e non progetti. Quindi per quanto riguarda la regione Campania sono state ammesse 31 domande su cui verranno elaborati appunto altrettanti progetti e sono stati prediletti sostanzialmente edifici ricadenti in zona sismica 1 e 2 o edifici ricadenti in zona a rischio idrogeologico. Ora se analizziamo il nostro punteggio, tanto per entrare nel merito di questa interpellanza, ci rendiamo conto che su alcune, nella griglia di punteggio, su alcuni elementi in cui abbiamo riportato zero punti, alcuni non sono appunto riconducibili ad alcuna attività e altri invece diciamo che non sono riconducibili ad attività non poste in essere diciamo nell'esecuzione del bando, della rispondenza al bando. Perché? Perché per esempio abbiamo avuto zero punti sul rischio idrogeologico così come perché evidentemente l'edificio non ricade in zona a rischio idrogeologico e abbiamo preso zero punti anche sulle aree interne perché per fortuna insomma non ricadiamo in una di quelle aree ritenute insomma meritevoli di attenzione o perché interne o perché degradate. Quindi non è colpa appunto di nessuno se non siamo né in area a rischio idrogeologico né tantomeno in zona interna ritenuta meritevole di attenzione né che ricadiamo appunto in zona 1 o 2 come zona sismica ma siamo in zona 3. Ci sono invece altri requisiti in cui abbiamo riscosso zero punti e in parte insomma ripeto non sono le collegate ad attività a noi diciamo direttamente imputabili perché perché per esempio negli anni ma complice il fatto che quell'edificio è chiuso da ormai da tanto tempo non sono state svolte indagini conoscitive sull'edificio e quindi così come la classificazione dal punto di vista energetico rimanendo cristallizzati a un bel non avendo un livello di conoscenza elevato approfondito della struttura perché appunto chiusa è ovvio che anche lì si è discosso pochi punti ma ecco andare a chiedere chi doveva sollecitare in passato una progettazione o un livello di indagine superiore su quell'edificio non l'abbia fatto mi sembra insomma un pochino ingrato proprio perché l'edificio era chiuso obiettivamente non è che si andava e pensavamo alla ricostruzione non si è pensato ad andare a fare delle indagini conoscitive ulteriori sull'edificio stesso. Poi c'è però un elemento invece negli altri abbiamo mi piace sottolineare che invece per quanto riguarda la rispondenza della domanda ai requisiti del bando abbiamo preso sei punti su dieci che è sicuramente il raggiungimento di una sufficienza questo per capire come insomma l'ufficio si sia attivato per riuscire a rispondere ai requisiti tipologici del bando. Invece un punto che mi preme sottolineare e su cui anche lì abbiamo perso punteggio abbiamo riscosso zero punti è quello riguardo all'inserimento dell'edificio nel piano del fabbisogno scolastico regionale perché l'inclusione in quella graduatoria avrebbe consentito di prendere punti ma qual è il piano del fabbisogno in cui non la scuola di via Carlo Amalfi non è stata inserita? Non certo quello 2002 che era in fase di realizzazione al momento dell'emissione del bando bensì quelli precedenti 2018 2019 2020 2021. L'edificio di via Carlo Amalfi non è mai stato inserito nel piano del fabbisogno regionale e questo ci ha comportato mentre ci sono gli altri istituti di piano e questo ci ha comportato ovviamente il non inserimento, la riscossione di zero punti. È evidente che questo requisito dove invece qui bisognerebbe fare una riflessione sul perché non si è mai pensato di inserirlo nel piano del fabbisogno regionale, questo requisito in uno agli altri che ho appena elencato ripeto non riconducibili a un'inerzia, a un errore o a un'omissione bensì ad elementi che fanno parte ovviamente delle valutazioni diciamo e sono obiettivi e non ci riguardavano insomma non ci consentivano di prendere punteggio invece questo elemento ci ha penalizzato e quindi dobbiamo effettivamente riflettere su questo. Mentre attualmente insomma abbiamo chiesto di inserire con questa domanda di finanziamento abbiamo chiesto di inserire anche la scuola di via Carla Marfi nel piano del fabbisogno regionale. Poi mi si chiedeva quali erano le idee per il futuro. Le idee per il futuro della scuola restano le stesse. Prima cosa quella domanda, quella domanda progettuale, quella domanda di finanziamento ripeto è stata ammessa graduatoria non finanziata ma è stata ammessa per cui probabilmente ripeto come ho detto prima potrebbe esserci uno scorrimento di graduatoria, un'apertura di un'altra linea di finanziamento per quel tipo di attività e quindi dovremmo aspettare questo. Potremmo appunto muoverci come è intenzione fare perché forse l'unico dato certo e sicuro che mette insieme, unisce un po' tutti e che quella struttura ormai lì non può aspettare più in quel modo. Quindi si cercherà il possibile per realizzare il recupero, la ricostruzione di quella struttura perché sicuramente non può stare più in quel modo. Quindi sia esso la linea di finanziamento regionale a cui abbiamo chiesto di essere inseriti, sia esso questo bando del PNRR per scorrimento di graduatoria, sia esso cercare una linea di finanziamento che vada a coprire anche il progetto Miano perché no, una qualsiasi attività deve essere, possa in essere, qualsiasi sforzo si debba fare si farà, e dico di più, laddove dovessimo renderci conto che le linee di finanziamento per la ricostruzione di una scuola non dovessero essere percorribili, valuteremo anche, perché no, anche il recupero della struttura perché, ripeto, l'unico dato sicuro sul quale non possiamo più indugiare è quello di lasciare quell'edificio lì in quel modo. È uno schiaffo alla cittadinanza, è uno schiaffo insomma all'impegno ma anche all'attività politica di ciascuno di noi. Quindi dovremmo riflettere su questo. Ovviamente la prima, il primo passaggio fondamentale è quello che punta alla demolizione e alla ricostruzione. Ripeto, su qualsiasi, apriamo tutte le linee possibili, insisteremo in tutte le sedi possibili per ottenere un finanziamento che consenta di demolire e ricostruire quella scuola. In seconda battuta, da dove dovessero, diciamo, essere lunghi o lontani i tempi di un finanziamento totale per quell'edificio, si potrebbe valutare, ma non possiamo dirlo oggi, non abbiamo le strumentazioni o le indagini necessarie per poter dire questo, si potrebbe valutare addirittura anche un recupero della struttura. Ripeto, qualsiasi cosa, ma non più lasciare quell'edificio in quel modo nel cuore di Piano di Sorrento. È un debito che non possiamo più permetterci di mantenere così. Sì, Carino, prego. Assessore, io su questa tematica, ne ho parlato già precedentemente in Consiglio Comunale, ma non ho mai fatto nessuna polemica sui social, io non ho scritto nulla, non mi piace fare polemiche, non le ho mai fatte in cinque anni, a differenza di altri che mi hanno attaccato in tutti i modi, insomma. Però io polemiche sulle cose da fare non le ho mai fatte, ho fatto delle osservazioni, ma proprio sulla scuola aspettavo il Consiglio Comunale e ne ho parlato in uno degli ultimi Consigli Comunali. Perché? Perché ci teniamo molto come Gruppo Piano nel cuore, ci abbiamo tenuto come precedente amministrazione, quindi è un tasto per noi veramente dolente, ma molto, molto importante. C'è stato questo non finanziamento, mi risulta che non è stato ammesso, ma d'altronde, come dice l'assessore, non ci sta questo problema del rischio ideologico, diciamo, non c'è questo, non c'è quell'altro, in questa linea di finanziamento, in queste schede, perché quindi non c'è nessun progetto attualmente per questa scuola, da parte di questa amministrazione. Sono delle schede che ha fatto bene il funzionario, diciamo, dei lavori pubblici, ha preso queste schede, ha partecipato, dice ci sta questa possibilità, ma voglio dire, noi non vogliamo fare il progetto che già è in essere, che già ha fatto lo studio Miano della precedente amministrazione, ma io dico di più, che è partito dall'amministrazione Ruggero di Salvatore Cappiello, cioè voglio dire, parliamo, stiamo disconoscendo, perché per effetti il progetto che è stato presentato, queste schede, perché l'ha fatto bene l'assessore a dire, non c'è nessun progetto, attualmente in Consiglio Comunale, oggi si dice che per la scuola di Pia Calla Malpi, attualmente non c'è nessun progetto, invece no, il progetto c'è, è quello con cui abbiamo lavorato, nonostante la pandemia e tutti i problemi che ci sono, in questi ultimi anni ci abbiamo lavorato e ci siamo interfacciati, non solo con la regione, dove l'abbiamo portato all'ufficio regionale il progetto, dove praticamente ci siamo interfacciati anche con la città metropolitana, perché poi l'assessore mi dovrà dire, quei 500 mila euro che abbiamo avuto per il primo lotto, che fine faranno, solo questo voglio capire, perché c'era un discorso anche aperto con la città metropolitana, perché la scuola la abbiamo portata anche agli uffici della città metropolitana, perché noi ci teniamo, noi non è, diciamo che vediamo che ci stanno, noi andiamo prima in regione per capire cosa si possa fare per questa scuola, perché ci teniamo, è un interesse pubblico, andiamo prima in città metropolitana per capire cosa si può fare per questa scuola, non è che ci affidiamo all'ufficio tecnico per fare delle schede e partecipare così, a PNR, senza sapere se abbiamo i titoli, se abbiamo le possibilità, se abbiamo le carte a posto per poter partecipare a questo bando, cioè noi partecipiamo perché facciamo ma che cosa, perché è meglio di nulla, perché attualmente c'è il nulla per questa scuola, diciamo anche la verità, io dicevo, ma noi siamo da un anno, ma sta gente che c'è stata da 30 anni, insomma voglio dire è un progetto che è partito con l'amministrazione Dugger, l'amministrazione Capire, si poteva continuare su quella strada come abbiamo fatto noi, interfacciando, ripeto, con gli uffici regionali che lo conoscono bene il progetto così come lo conoscono alla città metropolitana, ne può parlare col consigliere metropolitano Giuseppe Tito, allora voglio dire c'è stato un interessamento, quindi attualmente vengo, diciamo apprendo che effettivamente è così, quindi il progetto non è stato finanziato, si aspetta che forse sarà finanziato, ma se non abbiamo questi requisiti come potrà essere mai finanziato questo progetto? L'unico progetto attualmente vero che c'è ed ha avuto l'approvazione della sovraintendenza pure, cioè gli uffici ci hanno lavorato, può parlare con l'ufficio tecnico, sicuramente l'architetto Cannavale, il geometra Dario Pappalardo, le potranno illustrare che c'è una fase già avanzata con questa progettualità ed è peccato, veramente un peccato che l'avete messo da parte, perché poi addirittura ho sentito parlare di recupero, recupero che significa? Cioè lì nel 2022 noi andiamo a recuperare quell'edificio per fare una scuola moderna, oppure con quei 3 milioni e 300 mila euro faremo una scuola moderna là, che cosa ci facciamo se non guardiamo alto e puntiamo alto per questa scuola? Come si era partito con quest'idea progetto? Facciamo una cosa magnifica, noi facciamo una grande scuola, facciamo l'auditorium, facciamo, e stanno ancora i teloni là che lo illustrano, è bellissimo, passa da là, qua è venuto un mio amico da Milano e tu qua farei una grande cosa, sì sono 20 anni che si è stata a fare questa cosa praticamente, ma noi ci abbiamo lavorato, abbiamo presentato un progetto, non è che io ho dovuto pagare, abbiamo dovuto pagare come amministrazione anche i progettisti che hanno vinto l'idea progetto la volta scusa, che non era neanche stata pagata, erano passati due anni da quando avevano vinto questa progettualità? Lui lo dico, ma possibile mai? Perché non si prova a muoversi un pochettino, non affidandoci solo ai tecnici, ma a capire a livello regionale questa progettualità, se può essere finanziata? Perché c'è la possibilità, così come si può parlare con la città metropolitana, dove c'è un discorso aperto, questi 500 mila euro, che comunque è una traccia, è un piccolo tassello che potrebbe essere utile per poter continuare un discorso, perché una volta che si inizia un finanziamento, molto probabilmente uno può anche poi chiedere di poter continuare questo finanziamento. Cioè io penso che non si può aspettare, è chiaro, abbiamo fatto la scoperta dell'acqua cata, ma qui nessuno vuole aspettare, qui dobbiamo agire senza fare sofismi, cose, ci stai problemi, ormai nella vita ci sono sempre problemi quando fai la progettualità, però bisogna andare là, insistere, capire, il problema se si vuole risolvere, si risolve subito, basta presentare, lavorano gli uffici, cioè non ci si può nascondere, ci sta il problema qua, il problema là, e allora praticamente non facciamo niente. Quindi io vedo, penso che se si continua così, questi altri 5 anni saranno persi, e quindi questa scuola non si farà. A me questo veramente lo dico perché mi piange il cuore, perché ci sto male a pensare che per inerzia, perché ci si affida a sofismi, a sottigliezze, non si alza e si fa parlare direttamente e si vede come si deve finanziare, perché ci sta la possibilità di finanziamento. Sicuramente se si percorre un finanziamento che non è possibile, per cui non è possibile avere il finanziamento, ma poi non è solo questione di finanziamento, è questione di quale progetto si vuole presentare, perché altrimenti con questa cosa di recupero o questa cosa di 3 milioni e 300 mila euro, ma noi che quale scuola, allora non vogliamo fare più la scuola, vogliamo fare altro, noi vogliamo recuperare questo edificio perché poi ci vogliamo fare qualche altra cosa, allora diciamo perché con 3 milioni e 300 mila euro non si può abbattere e ricostruire una scuola, cioè non esiste proprio, o perlomeno una scuola come è stata presentata dalla precedente amministrazione alla mia, con quei teloni, con le cose dove la gente si è fatta i film, si è fatti i sogni, cioè abbattiamo i sogni, non ci stanno più i sogni, non ci sta il progetto, ci stanno le schede e questo ci sta attualmente, nulla, quindi oggi vedo proprio il nulla del nulla su questo argomento e questo ripeto, Assessore, mi dispiace, poi lei diciamo ho visto che ci tiene, ma ci tiene significa portare dei fatti, è inutile parlare di cose che si può fare, bisogna agire e intervenire perché certe cose si possono andare a prendere se aspettiamo che dalla regione o dalla città metropolitana ci portano la scuola qua è impossibile, sapete quanti progetti sono stati presentati, quante schede sono state presentate se non ci si muove un attimino e si fa quello che si deve fare, ma soprattutto si crede in un progetto non in delle schede che ha fatto l'ufficio tecnico, che non sono finanziabili perché non c'è neanche il progetto, noi abbiamo un progetto, ma perché non portate avanti il progetto per continuità amministrativa che è partita dall'amministrazione Ruggero e continuata con quella di Accarino perché non puntate in alto, perché volete distruggere i sogni dei bambini di Piano di Sorrento io questo è quello che dico, con 3 milioni e 300 mila euro, Assessore, lei mi deve rispondere alla mia domanda perché poi a me i sofismi non mi interessano, con 3 milioni, aspetta però mi faccia finire io non l'ho interrutta, lei mi deve rispondere a delle domande che adesso io le faccio perché io sono colui che fa le domande, lei mi deve rispondere, con 3 milioni e 300 mila euro lei veramente crede che si possa ricostruire una scuola soddisfando i sogni per quello che deve essere oggi una scuola moderna, questa è la prima domanda la seconda domanda, ma vi siete interfacciati con la regione e con la città metropolitana riguardando la città metropolitana, ma questi 500 mila euro che erano stati stanziati per fare l'auditorium, che cosa, come sta procedendo questa situazione e mi puoi illustrare queste domande che le faccio, così non rubiamo tempo perché andiamo direttamente al solo delle cose che mi interessano Presidente, allora procedo con ordine in prima cosa evidentemente, per prima cosa evidentemente noto che mi sono espressa male sono stata poco chiara, perché punto primo, non è che non c'è un progetto perché questa amministrazione non voleva fare il progetto, non c'è un progetto perché quel bando a cui abbiamo partecipato, che era l'unico a cui si poteva partecipare per le ricostruzioni scuole, non prevedeva ci fosse un progetto bensì una domanda di finanziamento, una domanda progettuale potevamo avere anche 25 progetti nel cassetto per bando, per quel bando, che ripeto è l'unico che è uscito adesso come linea di finanziamento per ricostruzione scuola non era previsto se avesse un progetto e questa ne è una cioè non è che io non ho il progetto perché non ho voluto farlo fare non ho un progetto perché pure se lo avessi avuto per rispondere a quel bando non dovevo avere un progetto bensì compilare una scheda come hanno fatto tutti quelli che hanno partecipato a quel bando non era richiesto un progetto ok, punto primo punto secondo qui, ripeto, evidentemente faccio ammenda della mia capacità insomma di esprimermi nessuno ha detto che non si farà il progetto Miano quella è una linea proveremo a chiedere, a insistere in tutte le salse in tutte le sedie possibili so che il presidente del consiglio comunale come anche delegato al PNRR in uno al sindaco sono andati più volte già ad interfacciarsi con l'ufficio preposto dalla regione Campania per le linee di finanziamento scuola proprio per portare avanti anche quella idea progettuale e quindi è un'altra questione punto terzo potremmo partire eventualmente con l'apertura di quella con il proseguire in quella linea di finanziamento quella del PNRR o della regione laddove dovesse scorrere la graduatoria e avere la possibilità di costruire con i soldi che ci saranno finanziati 3 milioni e 300 mila euro un edificio nuovo sono possibili? sì perché quello che risulta dalla scheda da quel tipo di importo finanziabile e quello è stato richiesto se ne aggiungeranno altri per completare l'opera laddove dovesse essere richiesto e in base all'importo progettuale che dovesse venire fuori punto terzo quindi non è stato detto che il progetto di Miano non lo percorriamo lo stiamo percorrendo stiamo percorrendo tutte le strade possibili dalla più sfarzosa quella di un progetto che costa 12 milioni di euro chiediamoci perché non abbiamo ottenuto negli anni un finanziamento di edilizia scolastica che arrivi a quell'importo finanziabile perché poi parliamo di sogni per i bambini i bambini che stanno sognando in danno e andando all'università perché non è che possiamo sognare 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 sempre a un certo punto dobbiamo capire fino a che punto si può sognare e a che punto bisogna tornare con i piedi per terra quindi questa è un'altra questione ancora abbiamo detto quella struttura cercheremo di costruire un edificio nuovo bellissimo come il progetto di Miano che si continuerà a percorrere meno bello ma non per questo significa meno utilizzabile o meno importante per il paese come può essere una linea di finanziamento meno impegnativa e quindi sicuramente più accessibile perché una cosa è chiedere un finanziamento di 12 una cosa è chiedere un finanziamento di 5 di 6 di 7 altro ancora significa capire effettivamente che possibilità ci sono per far sì che quell'edificio non resti ancora chiuso e ne tempo mentre noi sogniamo quello sta chiuso lì con tutta l'erba con tutta insomma la vegetazione che cerca di fare quello che normalmente fa la natura col tempo si riprende i suoi spazi e quindi se li è presi per tutti i piani e continuerà così così è più verde e quindi questa è la questione per quanto riguarda i finanziamenti e che cosa si sta facendo quindi guai a dire che qui non c'è nulla vorrei capire poi dopo a che punto si era spinto quel finanziamento per recuperare i 12 milioni di euro del progetto Miano a che punto si era spinta la sua progettazione questo poi me lo dirà lei perché adesso le passo passo ad un altro dei punti da lei toccati e su specifica domanda rispondo come se stessimo in tribunale che fine ha fatto il finanziamento dei 500 mila euro forse ce lo dovrebbe dire lei che fine ha fatto il finanziamento dei 500 mila euro perché in realtà quello non è un finanziamento secco è un finanziamento a compartecipazione ci avrebbero finanziato i 500 mila euro se noi avessimo appostato un milione e 579 mila euro il 4 gennaio 2021 il funzionario responsabile del settore lavori pubblici annuncia che c'è questa possibilità di accedere al finanziamento di 500 mila euro e chiede di appostare un milione e 579 mila euro in bilancio quindi questo è il 4 gennaio indirizzato al sindaco all'assessore ai lavori pubblici all'assessore all'istruzione e al segretario generale questo è il 4 gennaio il 24 febbraio viene fatta analoga richiesta sempre dal funzionario responsabile del settore che chiede di inserire nel bilancio di previsione la somma di un milione e 579 mila euro al fine di ottenere il finanziamento di 500 mila nel bilancio di previsione 2021 questa somma non è stata appostata ora me lo deve dire lei che fine ha fatto il finanziamento se non abbiamo disposto la somma per la compartecipazione l'interrogante non dà i 500 mila euro quindi ecco sembra facile dire ma come ne avevamo recuperato 500 mila euro ne servivano un milione e 579 mila veniva chiesto dal funzionario responsabile a gennaio di inserirlo in bilancio è stata reiterata la richiesta a febbraio la somma non è stata apposta a bilancio morale della favola stringi stringi gira gira i 500 mila euro non ci sono perché non c'è stata la somma di un milione 579 mila euro da appostare in bilancio di previsione punto stanno qui le documentazioni ovviamente dell'ufficio tecnico io non parlo mai se non ho le carte che mi piacciono tanto tanto che me ne riempio all'inverosimile che testimoniano questo quindi se lei mi dice dove sono un milione 579 io le dico dove stanno i 500 mila allora come al solito cadiamo nei sofismi cadiamo nel rapporto prettamente col funzionario praticamente non ci andiamo a interfacciare coglienti preposti e quindi diciamo succede la stessa cosa che è successa con le rampe con l'efficientamento energetico della scuola di legittimo e di diciamo del comune cioè tutte cose che poi se uno non va a parlare direttamente in città metropolitana perché in effetti c'era un dialogo con la città per vedere se riuscivamo ad avere e quindi c'era c'erano buone possibilità anche grazie al consigliere dito per far capire qual era l'importanza di avere proprio la possibilità di fare l'intero lotto e quindi questo era un primo tassello di finanziamento e c'era questa interlocuzione però l'agendo col tecnico del comune bravissimo ma direttamente assessore in città metropolitana con la direzione con il direttore generale della città metropolitana mi faccia finire mi faccia finire perché ripeto altrimenti io voglio dire queste cose perché io ho capito una cosa che qui non ci sa diciamo la politica ma ci sono i funzionari che praticamente a differenza di quello che dice l'assessore Marco Desposito che avete fatto un passo avanti io chiedo che state facendo un passo indietro perché la politica non c'è ci sono i funzionari che fanno le schede che le mandano oppure c'è il funzionario che scrive che questo non si può fare perché certo il funzionario non è andato in città metropolitana in città metropolitana ci sono andato io l'interfaccia con la direzione generale della città metropolitana ce l'ho fatta io in regione ci sono andato io quindi io so i fatti come stanno lei non c'era lei non c'era allora quindi è chiaro che per quanto riguarda invece la scuola di via Gallamalfi ma questo il fatto dei sogni dei bambini noi stiamo invece cercando di fare quello che è un sogno tenga presente che quando io sono diventato sindaco ci stava un'idea progetto che non era stata pagata poi ci sono i vari step per poter fare questa noi abbiamo lavorato affinché ci fosse un progetto come ci faceva essere finanziato un progetto se non ci stava il progetto esecutivo mi perdoni noi abbiamo iniziato perché ci abbiamo creduto mentre la volta scorsa quest'idea progetto non so per quale motivo è stata fatta se uno ci credeva veramente o no perché diceva beh è impossibile però però io devo dare atto che è stato fatto l'idea progetto tanto di cappello e quindi c'è poco da fare quindi è un atto cioè un qualcosa che c'è che c'era insomma quindi non chiacchiere era stata fatta quest'idea progetto e quindi va rispettata questa situazione che io rispetto per carità poi se uno ci credeva a meno se uno non crede nelle cose le cose non si realizzano ma io ci credevo e mi fa piacere che lei dice che ci state lavorando io sono contento se non avete abbandonato quest'idea per questo è per me l'unica idea percorribile andando diciamo mi ricordo che il sindaco ha scritto una lettera addirittura a Matteo Renzi per questo ci vuole coraggio bisogna andare bisogna muoversi cioè voglio dire ma aspettare ma se è male che va facciamo un sogno più piccolo facciamo giusto giusto 3.300.000 basta che lo ripichiamo e vabbè vediamo il funzionario che dice se il funzionario dice che si può fare lo facciamo e poi non lo so assessore guardi io voglio non perdo la speranza perché nella vita bisogna crederci noi come opposizione come gruppo di minoranza ci crediamo a questa cosa sono convinto sono convinto che ecco oggi la cosa positiva è che lei ha detto che questo progetto di Miano non è stato abbandonato e questo devo dire la verità mi fa mi fa veramente molto piacere perché ripeto è l'unica strada per correre perché oggi se veramente si deve fare una scuola lo stesso sui bambini andare a fare il risparmio quella non è una cosa sfarzosa quella è una scuola che deve essere fatta a regola d'arte con tutti i criteri che ci vogliono nel 2022 cioè non è possibile fare un edificio degli anni 60 e lo recuperiamo noi ci dobbiamo credere in grande certe cose che pensavo che non si facessero mai sono in dirittura d'arrivo e si faranno bisogna crederci quindi Assessore Sindaco Presidente che lei è stato quello che ha portato avanti l'idea progetto non abbandoniamo il progetto di Miano per fare una scuola non sfarzosa Assessore una scuola con tutti i criteri che ci devono essere oggi per i bambini perché per i bambini non esiste o facciamo a scuola oppure forse vogliamo fare altro la scuola oggi se si fa si deve fare con tutti i criteri se vogliamo dare una scuola ci andiamo a interfacciare con la città non con i te con la città metropolitana direttamente se lo sta facendo il Presidente mi fa molto piacere io sono disponibile a dare una mano su tutti i fronti a me nessuno mi ha chiamato mi ha detto ma a che punto stiamo con la città metropolitana a che punto stiamo con nessuno io sono a disposizione per la città il nostro gruppo di minoranza non fa polemiche non ne discutiamo in consiglio comunale noi siamo disponibili a dare il nostro contributo ufficiale per la realizzazione di questa scuola e lo dico in questa assise noi siamo disponibili a dare il nostro piccolo contributo per carità perché siamo gruppo di minoranza ma oggi ognuno di noi può dare il suo contributo perché noi ci crediamo a quella scuola e quindi ripeto non molliamo Presidente non molliamo Sindaco Assessore dobbiamo essere tossi perché attualmente per quello che le ha detto c'è il nulla non voglio allungare troppo diciamo la discussione ripeto soltanto che possiamo interfacciarci quando vogliamo le ha detto dovete interfacciarvi ci interfacciamo il punto è inverto i ruoli che alla domanda dove sono 1.579.000 euro necessari a ottenere lo sblocco del finanziamento dei 500.000 non c'è risposta e non è una questione dei tecnici perché io ce metto e me li danno o non ce li metto e non me li danno posso andare a parlare con chi voglio io ma il finanziamento prevedeva la compartecipazione e quindi l'appostamento di quella somma in bilancio che non c'è stata punto non c'entrano la regione la provincia gli uffici c'entra semplicemente questo è un dato di fatto punto poi per quanto riguarda l'edificio ci tengo a precisare una cosa perché evidentemente sono sempre io poco chiara ma quando io parlo di progetto meno ambizioso non significa rinunciare a un progetto che sia sicuro dal punto di vista statico e sismico questo sia chiaro una cosa se sto dicendo che voglio dotare i ragazzi e viva Dio volesse il cielo si possa fare di un progetto quanto più ambizioso possibile è una cosa e dire potremmo percorrere in alternativa un piano B un progetto meno ambizioso ma questo non significa non sicuro non sicuro dal punto di vista sismico non sicuro dal punto di vista statico non sicuro dal punto di vista della rispondenza ai requisiti minimi progettuali previsti per l'edilizia scolastica su questo ci metto dieci sottolineature perché non può passare in questo consiglio che si dicano cosa simile assolutamente no l'edificio sarà dal punto di vista statico sismico strutturale e funzionale adeguato assolutamente sia esso il progetto di Miano sia esso un progetto inferiore sia esso infine in ultima battuta in ultima analisi un progetto che vada a ripercorrere il recupero dell'edificio perché qui noi possiamo parlare quanto vogliamo noi ma alla fine non è quello che piace a noi dobbiamo anche partire da quello che si può fare è giusto realizzare ed è conveniente fare lì e faccio la domanda a lei che è stato sindaco cinque anni un limite di convenienza su quell'edificio lei l'ha mai affidato come incarico per capire che cosa si può e non si può fare di quella struttura perché ripeto qua sogniamo immaginiamo vogliamo e desideriamo vogli vogli fortissimamente vogli ma poi stringi e sul piano pratico un tipo di valutazione simile lei si è mai sentita di farla fare no immagino perché sopra i gatti non c'è e quindi prima di stare qui a chiacchierare a parlare potremmo stare altri tre giorni e ben venga perché in questo mi sento di dire che è una cosa positiva perché ne stiamo parlando qui in consiglio comunale dove è giusto che si parli e dove è bello anche che venga fuori ecco con quanta passione anche lei parla di quell'edificio di via Carla Murphy a simbolo del fatto che a significare che cosa che quell'edificio sta a cuore a tutti quanti e che quello ormai ripeto è una ferita aperta che non possiamo portarci avanti per chissà quanto tempo dobbiamo provare a rimarginarla non sono un medico quindi magari il termine esatto per dire che sarebbe bello che non ci fosse più alcuna cicatrice e quindi poter arrivare lì e trovare un edificio nuovo sta bene a lei sta bene alla consigliera Cilento al consigliere di Filippo al consigliere russo a tutta la maggioranza a tutta la popolazione sarebbe bellissimo arrivare e trovare un posto dove non si nota più nulla di quella che è una ferita del passato però per fare questo bisogna appunto non solo lavorarci ma anche rendersi conto alla fine di quello che si riesce e si può in maniera consapevole andare a realizzare Presidente rispondo solo all'ultima domanda se le miro permette dell'assessore allora guardi assessore noi ci siamo interfacciati abbiamo fatto una protazione su tutto quello che si poteva fare in quella scuola e alla fine l'unica strada percorribile perché altro non si poteva fare pur avendoci provato è da fare una scuola proprio per il fabbisogno scolastico perché c'è bisogno di una scuola però quello che lei mi dicendo questa situazione non avete fatto altre valutazioni avvalora ancora più il fatto che lei ha parlato solo con l'ufficio tecnico e non ha parlato con la città metropolitana in cui c'era e c'è una valutazione di fare anche altro per quella scuola sempre scuola è una situazione che lei probabilmente non andandosi interfacciare con la città metropolitana non credendo che il sogno si potesse realizzare probabilmente non lo sa e quindi questo avvalora ancora di più quindi io attualmente apprezzo che lei l'impegno questo fatto che ci metterà passione però attualmente siamo ancora zero a zero perché queste schede non sono state ammesse il progetto lì sta fermo praticamente quindi attualmente aspettiamo il divenire noi come gruppo di minoranza siamo disponibili a collaborare nell'interesse della città e dei bambini non l'ho più da dire voglio dire una cosa anche io anche perché sollecitato direttamente dal consigliere Iaccarino probabilmente per qualcosina già letta in passato per me l'assessore Iaccarino è stata chiara e puntuale se avessimo giocato al gioco delle domande probabilmente insomma ad alcuni c'è stata la risposta ad altri no io credo io credo questo innanzitutto del PNR e per questo parlo qui anche come delegato dobbiamo renderci conto di una cosa tutti ai comuni arriva soltanto la coda dei finanziamenti perché voi lo sapete che la stragrande maggioranza penso che si arriva all'80% di tutto quello che arriva andrà sui grandi tre assi nazionali stiamo parlando di trasporti stiamo parlando di digitalizzazione stiamo parlando di transizione ecologica ai comuni arriverà veramente una piccola parte di questa parte ecco perché è importante e mi pare che l'assessore l'ha sottolineato più volte è importante farsi trovare punti perché se non vengono finanziati con questa parte qui è molto probabile se si è ammessi per cui il nostro progetto è stato ammesso e non finanziato quando si dice non ammesso si dice una non esattezza va bene è stato ammesso e non finanziato in questo caso qua anche alla domanda ma possono bastare 3 milioni e 300 mila euro ma la risposta era manco con i 500 mila euro della regione della città metropolitana poteva bastare si vanno a trovare più fondi di finanziamento e questo fu detto anche quando la volta scorsa ci fu fatta la domanda chiara perché è stato scelto perché era un'opportunità per cominciare a trovare a mirare per i fondi sulla questione della città metropolitana devo aggiungere ci sono stato io personalmente anche perché su questa questione qua sia come delegato PNR sia sul mandato del sindaco sia città metropolitana che regione dopo della regione dirò in modo particolare siamo stati in città metropolitana e ci fu detto chiaramente quel giorno ecco perché probabilmente l'assessore poi è stata precisa anche che gli 500 mila euro non c'erano semplicemente perché il comune nel 2021 avrebbe dovuto appostare una cifra di oltre un milione e mezzo di euro e non è stato fatto c'è stato detto quindi siamo andati io personalmente sono andato aggiungo invece la regione alla regione penso ogni 15 giorni lunedì vado dall'assessore Fortini per cui non so se per simpatia affetto politica assolutamente no per insistenza quindi solo per insistenza vado lì e il nostro obiettivo soprattutto se vogliamo poi come qualcuno diceva rendere carne e sangue questo progetto questo sogno dobbiamo andare sui fondi di finanziamento regionale perché lì c'è ci stiamo andando ogni 15 giorni l'ultima volta che sono andata il sindaco ogni volta che vado lo aggiorno certe cose forse non le so io ti parlo di quello che so di quello che non so non posso sapere io ti dico l'ultima volta che sono stato è stato lunedì scorso alla Fortini e sto aggiornato su quello che riguarda la delibera per quanto riguarda la regione qualche volta lo porterò qualche volta lo porterò perché Fortini ha diverse deleghe oltre a quello della scuola va bene quindi volevi aggiungere qualcosa prego no ti volevo dire presidente mi fa piacere che non c'è da parte tua un'inerzia diciamo c'è questa andata diciamo in regione in città metropolitana probabilmente ci sono delle cose che probabilmente non sai perché c'era un discorso aperto per fare qualcosa di più grande però credo che non lo sai manco tu quindi nonostante vai in provincia in città metropolitana probabilmente non che ti devo dire poi no no ci parlavano della città metropolitana e quindi voglio dire per quanto riguarda diciamo il progetto di Miano diciamo in regione oltre a parlare con diciamo la politica regionale si parlava anche con i tecnici per poter capire tutte le fonti di finanziamento eccetera con diciamo tutto il rispetto per la dottoressa Fortini ci mancherebbe altro che sicuramente farà il massimo per noi però voglio dire anche lì c'era già un discorso aperto e quindi hanno il nostro progetto io sono a vostra disposizione come amministrazione hai detto con i funzionari regionali no perché è sicuramente parlare con la politica poi dopo quando lo facciamo con i funzionari no no e vabbè ma la politica si deve muovere la politica quando va in regione deve parlare con i funzionari con la politica che è presente bisogna andare in tutti gli uffici non solo parlare con il politico a livello regionale però no con l'assessore regionale per carità con l'assessore regionale ci mancherebbe però interfacciarsi non solo con l'assessore regionale capire anche un attimino diciamo perché dall'assessore regionale ci vanno tanti politici è chiaro capire effettivamente le cose come stanno andare negli uffici capire effettivamente diciamo se c'è la possibilità o non c'è la possibilità perché lei parla di progetto no? Quello sono le schede Presidente quindi allora mi devi dire no hai visto una cosa una scheda progettuale no Presidente l'hai vista una scheda progettuale? no Presidente voglio dire ti faccio una domanda l'hai vista la scheda progettuale? allora sì ma è una scheda progettuale quindi bisogna partire con le varie fasi di progettualità voglio dire l'hai vista una scheda progettuale? sì allora se qualcuno pensa che sia un modulo no lo so però non è un progetto non è un progetto e siamo nella fase preliminare di un progetto ma non è un progetto assolutamente non è un progetto perché poi assolutamente eh sì ma se lei allora noi siamo nella fase preliminare quindi lei mi deve dire quando c'è una fase preliminare di un progetto no? di 3 milioni e 300 lei come fa ad aggiungere altre cose se quello è un progetto? cioè lei dice poi facciamo la cosa iniziamo a prendere questa cosa noi perlomeno per la città metropolitana i 500 che poi c'era un altro discorso con la città metropolitana è nell'ottica di un progetto grande sempre di quello di Miano lei adesso sta dicendo che quello è un progetto preliminare va bene quindi quello sarà il progetto di 3 milioni e 300 mila euro non è che può cambiare se voi iniziate a fare assolutamente in un certo modo quindi quella sarà la scuola una scuola diciamo così ma sarà la scuola sarà idonea Presidente no io voglio dire hai detto che non dobbiamo far polemiche e allora io no io non è che voglio far polemiche allora ti dico sto rispondendo a te perché mi stai difendo che praticamente poi risponde che i 500 mila euro in città metropolitana non ci sono perché l'anno scorso 2021 questa cosa non la vuoi sentire no io la voglio sentire per quale motivo l'amministrazione non ha messo nel bilancio comunale nonostante ci sono due richieste degli uffici un milione oltre un milione e mezzo di euro per poter c'era sempre la possibilità di poterlo fare e quindi ma comunque finalmente c'era forse ma non è stato omesso perché c'era un altro discorso e perché le va in città metropolitana probabilmente a fare non so che cosa perché fondamentalmente c'era un discorso ne parli col consigliere metropolitano Giuseppe Dito io mi fermo qui ne parli col consigliere metropolitano ne parli perché adesso io non lo so voi che cosa state facendo ne parli col consigliere metropolitano va benissimo va bene lo farò lo farò noi andiamo a fare le passeggiate a Napoli e poi non balliamo non balliamo con le persone con cui dobbiamo parlare e mettiamo i pugni sul tavolo e capire che cosa bisogna fare si può anche andare a fare passeggiate a Napoli a perdere tempo certo noi col consigliere metropolitano ci vediamo tutti i giorni allora a me è arrivata una sola richiesta da parte del consigliere metropolitano riguardo la scuola di Vecarlo Amalfi a voce datecela facciamo una scuola bravo questo è quello che ci sarebbe arrivato e io ritengo e l'ho condiviso con il gruppo di maggioranza che siccome noi abbiamo siamo in sofferenza come spazi per quanto riguarda le scuole nostre si è ritenuto dire no la scuola superiore significa dare in proprietà alla città metropolitana quello spazio quella struttura la città metropolitana avrebbe fatto degli investimenti per fare una struttura della scuola superiore questo è quello ma al bar è quello che mi ha chiesto il consigliere metropolitano se ci sono atti diversi su cose diverse non li abbiamo mai parlato anche se da parte mia richiesto significa che è stato un fatto voglio dire privato detto fra voi ma a me non ha mai detto nulla di diverso da quello che vi sto dicendo c'erano vari discorsi da fare con la direzione generale vabbè io non sono andato di persona quindi vabbè tanto a voi non interessa base non ce la meritiamo mi dispiace anche perché da una parte non vogliamo fare polemiche sono contento della passione quello che io so quindi interessa quello che ci siamo detti finora non ho detto detto che a me si è portato avanti il progetto di Miano quello che tu hai iniziato con l'idea a me fa piacere però bisogna essere Presidente un attimino più decisi va bene prenderò l'esempio Presidente prego Vice Sindaco giustamente visto che è un argomento molto sensibile ma al di là delle valutazioni siamo curiosi anche di capire quali potevano essere l'evoluzione perché se è l'evoluzione da vusi da corridoio da barro perché io credo che le amministrazioni debbano ragionare attraverso gli atti se le discussioni con perché non si è capito poi la direzione generale col politico vabbè voglio capire è importante perché è logico che la politica dagli impulsi e poi gli atti li fanno ma il ragionamento qual è quello che non abbiamo percepito diamo un contributo alla discussione qual è il ragionamento che lei voleva perseguire e che purtroppo è stato interrotto con le elezioni eccetera qual era quello era il ragionamento che diceva il sindaco della proposta del consigliere metropolitano di avere una scuola superiore a piano di sorrenti noi abbiamo l'esigenza di fare una scuola sicura moderna con le cose che diceva lei che riguarda però altri allora se c'è un contributo alla discussione perché noi dobbiamo se c'è un contributo chiaro alla discussione e ci sono delle idee chiare io credo che si possa andare maggioranza e minoranza se queste cose possono essere condivise e le condividiamo qua il consiglio comunale e ci si va insieme perché su questo credo che non ci sia problemi nessuna polemica sterile io ti ho fatto piacere che hai fatto questa domanda consigliere vice sindaco Iaccarino allora c'erano due discorsi sia questo della scuola così che però a noi non andava bene perché siamo in difficoltà per quanto riguarda però c'era invece la possibilità di avere il finanziamento il primo lotto e si stava parlando di avere un finanziamento per l'auditorium e per mentre per i finanziamenti regionali c'era l'interlocuzione con la regione per avere il finanziamento quello che già sappiamo quello che già sappiamo non c'è novità sembra che degli non si chiede a te ma sembra che lei voglia introdurre degli eventi non conosciuti che noi non conosciamo infatti non ci siamo a frequentazione con la firma è quasi un anno che non avete in quasi un anno che non vedo nulla cioè come se si fosse interrotto completamente il discorso zero assoluto vice sindaco Iaccarino zero assoluto ma bene poi questa è una valutazione poi vedremo va bene siamo in tempo di scrutini e di esame zero assoluto andiamo avanti allora abbiamo concluso dire delle interrogazioni interpellanze quindi alle 11 e 22 e passiamo allora all'argomento all'ordine del giorno punto 3 punto 2 scusate rendi conto esercizio finanziario 2021 esame ed approvazione lascio la parola all'assessore Iaccarino apro apro questo argomento con quelli che normalmente sono i titoli di coda perché voglio aprire questo intervento con un ringraziamento normalmente si parla dei dipendenti pubblici con accezione negativa come se fosse una categoria che mal apprezza il proprio lavoro senza tenere presente una cosa che come in tutte le sfaccettature del mondo del lavoro quelli che normalmente davvero non onorano la maglia che indossano sono davvero pochi però per cui pochi spesso si viene additati la stragrande maggioranza dei dipendenti pubblici così come la stragrande maggioranza dei lavoratori che si riescono a cogliere o a trovare in qualsiasi settore della vita di un paese sono invece persone che lavorano con abnegazione con con spirito di sacrificio e quindi questo va va sottolineato è una parte piccola quella che spesso da poi da chiacchierare da parlare questo in tutti i settori della vita sociale lavorativa poi ci sono dei lavoratori appunto che al di là della grande nucleo che porta avanti in silenzio il lavoro compie in silenzio il proprio lavoro c'è una parte c'è una fetta di persone che interpretano il lavoro come se fosse davvero una missione come se fosse una costola di se stessi e quando si trovano persone così bisognerebbe da una parte essere stretti e dall'altra appunto ringraziarli per la loro capacità di non guardare l'orologio per la loro capacità di impegnarsi nel lavoro come se fosse qualcosa che gli appartiene personalmente e mi sento quindi di ringraziare due persone qui in questo consiglio comunale che hanno spinto e trainato tutto l'ufficio verso l'argomento che oggi stiamo andando a provare c'è il rendiconto di esercizio 2021 e sono il funzionario responsabile Vincenzo Di Mauro e Marco Bagnasco hanno lavorato oltre ogni aspettativa hanno davvero preteso da loro stessi il massimo e hanno trainato l'ufficio impegnando tutti ciascuno per le proprie competenze nella redazione del bilancio di esercizio 2021 quindi questo per me è un elemento importante che va sottolineato così come va sottolineata la funzione centrale dell'ufficio bilancio e ragioneria del comune perché spesso si è portati si è indotti a credere che nella macchina amministrativa comunale l'organo pulsante sia l'ufficio tecnico il che è vero ma c'è un altro organo che se uno è il cuore è un altro cervello oppure i polmoni a seconda perché danno ossigeno c'è un altro ufficio che è di fondamentale e vitale importanza per un comune ed è l'ufficio finanziario avere avuto in sofferenza quell'ufficio ha portato ovviamente a vivere momenti di particolare delicatezza a tutta l'intera macchina comunale e quindi qui andrebbe fatta una riflessione politica sull'organizzazione della macchina amministrativa e sul diciamo sulla sulla facilità con cui magari si è consentito che si sguarnisse un ufficio che ripeto è di fondamentale importanza qual è l'ufficio bilancio e tributi quindi ecco abbiamo imparato appunto che sono dei ruoli centrali che la figura del funzionario in quel settore è una figura non solo altamente specializzata perché quello è quello che viene richiesto in genere a chi ricopre una figura apicale ma sono figure altamente specializzate e che necessitano di una importante conoscenza di quella macchina è come se si chiedesse a non lo so al pilota di una compagnia aerea che è abituato a guidare a condurre aerei di un determinato tipo di cambiare e di spostarsi con un'altra compagnia che utilizza un altro tipo di verivolo avremmo anche lì due persone dotate delle medesime capacità diciamo professionali ma la conoscenza della macchina è fondamentale e la sostituzione di figure apicali in tal senso deve essere davvero affrontata con i piedi di piombo perché poi dopo le ripercussioni investiranno tutta la macchina amministrativa ed è quello che un tantino si è verificato in questo comune con diciamo con lo spostamento del funzionario responsabile potrebbe sembrare una cosa banale invece è una cosa che ha avuto una ripercussione importante senza nulla voler dire sui funzionari che si sono susseguiti alla figura di Vincenzo Di Mauro ma ripeto è la conoscenza della macchina che è fondamentale non la capacità professionale che indiscussa per chiunque abbia ricoperto quel ruolo sino ad oggi sia il dottor Tramontano sia il dottor Luigi Russo che ringrazio entrambi perché con loro ho lavorato col dottore Tramontano per gli ultimi due mesi sostanzialmente dall'insediamento dell'amministrazione per qualche mese col funzionario Luigi Russo del comune di Meta professionisti di indiscussa capacità ma sicuramente non consapevoli non conoscitori della macchina su cui erano stati messi alla guida quindi questo mi sento di dire appunto come preambolo di apertura arriviamo oggi ad approvare il bilancio consuntivo all'esercizio 2021 e procediamo quindi a guardare un attimino quelli che sono i dati tecnici perché il bilancio l'esercizio il bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2021 come si così per tutti gli esercizi generalmente che si chiudono in un ente locale è un documento pressoché tecnico non ha una matrice politica se non nella linea nelle file che si potranno trarre nelle conclusioni che si possono trarre alla fine sull'andamento dell'esercizio quindi della macchina amministrativa nell'anno ma in realtà appunto come ben sappiamo tutti è un è un argomento prettamente tecnico perché appunto prevede che gli uffici mettono insieme tutte le le entrate le uscite dell'anno dell'anno concluso si verifichino i pagamenti vadano a verificare gli eventuali residui si interfacciano con i bilanci delle società partecipate quindi tutte voci meramente tecniche quindi prendiamo passiamo un attimino al documento in sé e avremo che per l'anno 2021 si partiva con un fondo cassa all'inizio di esercizio di 10 milioni 727 mila euro è stato applicato un avanzo di amministrazione nel corso del 2021 pari a 694 mila euro abbiamo un totale delle entrate di esercizio di 20 milioni 370 mila euro di cui incassate 16 milioni le spese correnti sono stati impegnate 10 milioni 904 mila euro pagati 9 milioni 858 come spese totali di esercizio abbiamo 24 milioni 907 mila euro a fronte di un pagamento di pagamenti per 19 milioni 315 e 555 quindi questo come quadro generale riassuntivo il fondo cassa appunto al primo gennaio era di 10 milioni 727 mila euro quindi il fondo cassa sono le somme liquide presenti nelle casse comunali 10 milioni 727 mila euro il fondo cassa totale al 31 dicembre era di 7 milioni 720 mila euro quindi si è ridotta la forbice del fondo cassa tra l'inizio e la fine dell'anno i residui attivi cioè le entrate accertate ed esigibili nell'esercizio di riferimento ma non incassate ammontano a 25 milioni 403 mila euro così come residui passivi cioè le spese impegnate liquidabili ma non pagate ad 8 milioni 814 mila quindi con un risultato di amministrazione di 19 milioni 388 mila 410 qui va fatto un attimo una parentesi dopo aver detto che il fondo di crediti di dubbia esigibilità è 13 milioni 772 mila euro va fatto un appunto in merito a quelli che sono i residui che poi è quello che ci ha sottolineato anche il revisore dei conti dobbiamo avere una maggior capacità di scremare e di vagliare i residui perché abbiamo residui appunto per 25 milioni attivi parlo quindi di somme esigibili ma non incassate che poi è il problema appunto principale che vivono molti enti locali e che qui appunto viene sottolineato anche dal revisore della capacità di incassare abbiamo una capacità di spesa più veloce della capacità di incasso e soprattutto abbiamo una poca efficienza nell'incassare perché motivo per cui insomma portiamo dei residui insomma ampi anche vetusti anche vecchi che bisognerebbe appunto diciamo sollecitare nelle fasi di riscossione questo per far sì che si maturino che maturino le entrate il totale di parte disponibile a chiusura dell'esercizio è di un milione e duecentomila euro anche qui quando si parla di avanzi di amministrazione per parte disponibile quando si parla di avanzi di amministrazione così cospicui sappiamo tutti che il bilancio degli enti pubblici dovrebbero finire a pareggio quindi a zero il che ovviamente si verifica per questioni di natura tecnica ma in pratica è difficile che si verifichi il pareggio di bilancio in cassa abbiamo che cosa quando c'è un avanzo di amministrazione cospicuo che evidentemente le somme appostate che si prevedeva appunto di andare a spendere non sono state spese però qui c'è un dato che va sottolineato e che emerge appunto dalla ricognizione delle entrate dell'anno praticamente erano state stimate nel bilancio di previsioni delle voci in entrata che poi in realtà non si sono materialmente concretizzate quindi non perché non siano state incassate ma perché a monte non sono stati appunto non si sono realizzati quei tipi di entrata per esempio era stato previsto un finanziamento da parte degli enti sovracomunali o trasferimento statale per 400.000 euro oltre quelli che poi in realtà si sono insomma concretamente realizzati come trasferimenti per cui si è dovuto appunto poi registrare una diminuzione del trasferimento così come le entrate legate diciamo alla riscossione delle sanzioni amministrative per il codice della strada erano state sovrastimate il che ha comportato appunto anche lì una riduzione di circa 772.000 euro tra illeciti sanzioni vendita di beni e servizi e canoni questo cosa ha comportato e mi riallaccio a quello che era il ragionamento diciamo della necessità di avere un condottiero che conosca la macchina che sta diciamo che sta guidando che a un certo punto si è verificata quella che di fronte che avviene anche nelle famiglie di fronte a un'incertezza delle entrate si congelano si rallentano le spese onde evitare appunto che ci possono essere sofferenze o problemi di bilancio cosa che appunto non si è verificata neanche nell'esercizio 2021 però ha portato a un rallentamento delle spese che significa che parte delle somme appostate in bilancio poi non sono state spese ed ecco che abbiamo un avanzo di amministrazione per parte disponibile di 1.200.000 euro nella relazione del revisore vengono appunto sollecitati una maggiore rapidità nell'incasso delle somme insomma da recuperare sia dal punto di vista delle sanzioni al codice della strada sia dal punto di vista delle altre entrate tributarie quindi il recupero dell'evasione IMU e Tari e viene sollecitato ovviamente un'attenzione anche al fondo per il contenzioso perché come diciamo accade agli enti locali il contenzioso assorbe comunque una fetta di bilancio comunale e quindi occorre prestare attenzione appunto anche al monitoraggio questi sono i moniti che provengono dal revisore che ovviamente ha rilasciato parere positivo quindi ha licenziato con positività il bilancio trasmesso quindi per 10 dodicesimi riguardava appunto l'amministrazione uscente per 2 dodicesimi l'amministrazione diciamo la nuova amministrazione è stato licenziato positivamente con queste due sottolineature uno con la capacità di essere più rapidi a far entrare i soldi che si insomma le entrate che devono essere recuperate e quindi anche qui a ridurre i residui passattivi e dall'altra a monitorare il fondo per il contenzioso che poi generalmente determina anche debiti fuori bilancio che poi devono essere appunto coperti possono essere coperti anche con eventuali avanzi di amministrazione perché l'avanzo di amministrazione ha dei fini prestabiliti dalla legge tra cui anche eventualmente il recupero dei debiti fuori bilancio se ci sono domande insomma io stamattina non c'è il funzionario con noi che generalmente insomma è presente quantomeno nel licenziare gli argomenti che hanno una natura tecnica come quella appunto del bilancio consuntivo però insomma per quello che riusciamo a districarci insomma per quanto possiamo districarci dei numeri proveremo appunto a magari a scendere più nello specifico di fronte a qualche richiesta insomma di chiarimento sulle spese sulle entrate ci prepariamo alla votazione prego Cappiello Salvatore Luggero Giovanni Giaccarino Giovanni Russo Costantino Arnese Antonella Pasquariello Anna Lisa Giaccarino 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 Esposito Marco Gargiulo Maurizio Esposito Giuseppina Russo Monica Veniero Katia Giaccarino Vincenzo Cilento Cilento Carmela Daniello Pasquale Russo Mario Di Filippo Gabriele Allora 14 votanti 12 a favore 1 astenuto 1 no La delibera è approvata approviamo con la stessa votazione anche l'immediata eseguibilità va bene? Stessa votazione Siamo argomento successivo numero 3 riconoscimento debito fuori bilancio pagamento sentenza numero 3856 2016 giudici di pace di sorrendo giudizio civile di rolla cristian contro comune prego è un debito fuori bilancio che deriva da una sentenza del giudice di pace di sorrento per un sinistro stradale da insidia quindi provvedimento esegutivo passo anche al prossimo vabbè votiamo un attimo se d'accordo votiamo un attimo punto 3 cappiello salvatore lugero giovanni Giaccarino Giovanni Lusso Costantino Arnesi Antonella Pasquariello Annalisa Giaccarino Anna Desposito Marco Gargiulo Maurizio Esposito Giuseppina Lusso Monica Veniero Katia Giaccarino Vigenzo Assen Cilento Assente Daniello Pasquale Assente Lusso Mario Assente Di Filippo Gabriele 13 presenti 12 a favore 1 astenuto la delibera è approvata e con questa anche immediata eseguibilità stessa votazione chiaramente passiamo all'ultimo argomento del giorno riconoscimento debito fuori bilancio pagamento sentenza numero 3856 2016 del giudice di pace di Sorrento giudizio civile di Rola Cristian contro Comune prego questo è un procedimento amministrativo conclusosi con una sentenza del TAR e bisogna riconoscere le spese giudiziarie anche questo provvedimento esecutivo prego Cappiello Salvatore Ruggero Giovanni Giaccarino Giovanni Russo Costantino Russo Costantino Arnesia Antonella Pasquarello Alnavisa Giaccarino Anna Desposito Marco Gargiulo Maurizio Esposito Giuseppina Russo Monica Veniero Katia Giaccarino Vicenza Assente Cilento Carmela Assente Daniello Pasquale Assente Lusso Mario Assente Di Filippo Gabriele Astena 13 presenti 12 a favore 1 astenuto La delibera è approvata e con questa anche l'immediata esecutività con la stessa votazione persona.